Musica Buonasera e bentrovate allo speciale lezioni di Reteotto dedicato questa sera al comune di Montesilvano. Conosceremo nel corso della serata ancora meglio, visto che abbiamo avuto già modo di incontrare tre candidati a sindaco al comune di Montesilvano, la terza città d'Abruzzo, che si contenderanno la poltrona di primo cittadino nelle prossime elezioni amministrative del 26 maggio. Lezioni amministrative che vedranno anche le altre elezioni, quelle europee. Abbiamo avuto, dicevo, modo già di conoscere i tre candidati sindaco nel precedente incontro. Svilupperemo ulteriormente gli argomenti che stanno a cuore ai cittadini di Montesilvano per fare una scelta consapevole. L'invito mio personale è quello comunque di andare a votare il 26 maggio prossimo per avere una più ampia partecipazione. Allora, iniziamo subito a presentare i nostri ospiti di questa sera. Alla mia sinistra Enzo Fidanza, candidato sindaco del centro-sinistra. Buonasera Fidanza. Buonasera, buonasera. Già vice-sindaco della provincia di Pescara, vice-presidente della provincia di Pescara, nonché vice-sindaco ed assessore al bilancio della giunta comunale con Allora Di Mattia. Al centro abbiamo Ottavio De Martinis, candidato sindaco del centro-destra. Buonasera De Martinis, attuale vice-sindaco e assessore uscente, sostenuto da Lega, Forza Italia, Udc, Fratelli d'Italia e lista Montesilvano in comune. Enzo Fidanza, lo ricordiamo, invece, è candidato del centro-sinistra, sostenuto da Partito Democratico, progressisti per Montesilvano e lista anno zero. Ed infine, Raffaele Panichella, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, architetto da circa 30 anni, impiegato all'ufficio provinciale del territorio di Pescara, non ha mai ricoperto incarichi istituzionali, politici e sostenuto dalla lista Movimento 5 Stelle. Buonasera a tutti e grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, Enzo Fidanza, come sta andando questa campagna elettorale? Rompiamo subito il ghiaccio, entriamo un po' nel merito, però cercando di capire come si sta evolvendo questa campagna elettorale, incontra i cittadini a modo di sentire anche le loro richieste, le loro preoccupazioni. Insomma, Montesilvano, che momento sta vivendo e soprattutto voi che cosa state proponendo per calamitare? La campagna elettorale ormai sta entrando nella parte finale, che è la parte più calda questa ultima settimana. I cittadini partecipano, sono attenti alle cose che non hanno funzionato e ce le sottolineano e ci sottolineano anche come vorrebbero che funzionassero. Per esempio che cosa chiedono? Ma soprattutto la cosa sulla quale noi abbiamo purtroppo, e che io ho tra i punti essenziali del programma, il decoro urbano. Il decoro urbano è un elemento fondante del benessere ambientale, della vita quotidiana e dentro il decoro urbano ci mettiamo tutto, ci mettiamo le strade, le piazze, il verde, la manutenzione delle scuole, insomma, purtroppo è un tema importante e delicato. Naturalmente questo è un'aspirazione, per noi è un elemento programmatico forte, importante, naturalmente a tant'altro, è inutile che lo dico, poi magari nel corso della puntata avremo cose di parlare. E poi una cosa importante è che, sottolineano, vorremmo che ci fosse una maggiore partecipazione della politica nel periodo che intercorre da un'elezione all'altra. È come se un po' la politica facesse il suo nel momento in cui ci sono le attività amministrative, e poi un po' si sgancia dalla vita quotidiana del... Insomma, il cittadino vorrebbe partecipare. Va stimolato, ma vorrebbe partecipare. E questo noi lo incontriamo soprattutto nei giovani, perché noi abbiamo delle liste giovanissime, rinnovatissime, e che quindi toccano una fascia d'età che è una fascia che ci appartiene, ci piace, ci sta dando molte soddisfazioni, molte motivazioni. Abbiamo capito che nel momento in cui questi giovani e questi ragazzi sono stimolati, così come stiamo facendo, ci stanno dando delle grandi risposte. Poi una cosa che ci aspettiamo dalla popolazione è che ci sia una partecipazione al voto. Noi Montesilvano ha oltre 40.020 diritto al voto, ora questi 40.020, soprattutto nelle ultime tornate elettorali, io parlo di quelle amministrative, ma ormai questa problematica vale per tutte le tornate, partecipa con circa 22, 23, 24, 25 mila partecipanti. Allora questo è un segnale che la politica deve registrare, deve raccogliere e ci deve lavorare, per fare in modo che le popolazioni, quindi gli eventi di diritto al voto, tornino con l'interesse a votare. E io soprattutto a loro mi rivolgo, poi naturalmente, perché se c'è stato un momento di distacco, se c'è stato un momento di distrazione, noi lo vogliamo recuperare attraverso un programma, che abbiamo già detto più volte, e attraverso delle liste rinnovate che danno nuova linfa vitale a questo impegno politico-amministrativo. Largo ai giovani. Ottavio De Martinis, ricordava Fidanza, una campagna elettorale che sta entrando nel vivo, l'ultima settimana è quella decisiva per convincere gli indecisi, per convincere, come dire, gli elettori meno affezionati alla politica e alle amministrative in particolare. Che campagna elettorale ha vissuto e sta vivendo e che cosa farà in questi ultimi giorni? La campagna elettorale sta andando molto bene, la città risponde a tutti gli stimoli relativi alla tornata elettorale che ci sarà nel 26, risponde proponendo in particolar modo, e questo non può che far piacere, penso, alla politica tutta, nella misura in cui noi riteniamo che quando il cittadino partecipa alla politica vuol dire che la politica funziona e vince. Il mio comitato è molto partecipato in termini di presenze, di frequentazioni e questo mi fa piacere perché nel giorno della mia inaugurazione, dell'inaugurazione del comitato, io ho detto che quella non voleva essere un comitato fino a se stesso, ma un luogo appunto di ritrovo dove noi, e quando parlo di noi ragiono tutta la coalizione che io rappresento, voleva avere soprattutto questo, stimoli e voleva avere consigli e voleva avere anche dove ci sono dei consigli per quel che riguarda le cose che sono andate un po' meno. La cosa che fa piacere invece è che tanti ci attestano relativamente al passato stima, soddisfazione per quello che è stato fatto, ovviamente va tutto migliorato, va tutto potenziato e questo infatti è quello che vorremmo fare nei prossimi cinque anni, e ci fa ben sperare per il futuro. Io in questi giorni ho ricevuto tanti cittadini, ma non soltanto giovani, insomma ho ricevuto commercianti, ho ricevuto padri di famiglia, ho ricevuto disoccupati purtroppo perché questo è un grande problema e proprio di questo tanti di loro vengono a prospettarci le loro difficoltà e se vogliamo parlare dei giovani, anche i giovani rappresentano una fetta di elettorato importante che questa volta io penso che non soltanto grazie al centro-sinistra ma anche grazie a tutte le altre forze presenti sul territorio possa avere finalmente uno spazio che negli anni addietro è venuto un po' a mancare, collegando nel mondo giovanile. Ci sono tanti giovani nelle liste che rappresentano il nostro futuro e mi auguro qualcuno di questi possa veramente entrare in Consiglio Comunale e darci in merito alle politiche giovanili quell'impulso e quelle idee che mancano. Quello che voglio sottolineare infine è quanto questa campagna elettorale finalmente, dico io, dopo tanti anni di veleni e di politica brutta che ai cittadini non serve e non piace, si sta portando avanti nel miglior modo possibile anche sotto questo aspetto. Stiamo conducendo una battaglia elettorale, faccio i complimenti anche ai miei concorrenti, diciamo così, rivali, perché io penso che i cittadini abbiano bisogno solo e soprattutto di questo. Sicuramente sono stati apprezzati i toni di questa campagna elettorale molto civile, basati soprattutto sulle proposte e su quello che si vorrà fare. Raffaele Panichella, come Movimento 5 Stelle avete presentato un programma, puntate molto sull'intercettazione dei fondi europei per finanziare una macchina amministrativa dove è sempre più difficile far quadrare i conti. Anche a lei chiedo che cosa ha caratterizzato questa campagna elettorale fin qui e che cosa farete nei prossimi giorni? Beh sì, questo dei fondi europei ovviamente è un tema che per noi è stato centrale, perché in passato abbiamo registrato comunque questa incapacità da parte dell'amministrazione, ma non solo dell'amministrazione di Montesilvano, questo è successo un po' in tutti i comuni del centro-sud e l'Abruzzo purtroppo anche in questo non si è distinto. Ed è veramente un peccato perché ci sono veramente tante occasioni per le amministrazioni comunali di fare progetti, di intercettare fondi e questo nei vari contesti, quindi parlo del settore delle infrastrutture, del turismo, della mobilità sostenibile, della comunicazione, ecco è un vero peccato perché da cittadini ci si rende conto come l'inerzia, a volte l'incapacità, a volte anche proprio la non conoscenza di alcuni aspetti, poi finiscono col penalizzare noi cittadini perché ci si lamenta che le cose non si fanno e non si fanno perché non ci sono fondi, però poi in realtà quei fondi ci sono, basterebbe allungare la mano ed allungare la mano significa fare progetti, andarli ad intercettare per poterli prendere. Ecco proprio per rappresentare i cittadini quanto quello che sto dicendo non è una mia fantasia, proprio oggi pomeriggio nella nostra sede elettorale alle 17 ospiteremo Rosa D'Amato che è un euro parlamentare del Movimento 5 Stelle, tra le prime per tasso di produttività in Europa, tra tutti i parlamentari italiani, ed ecco ci verrà a rappresentare proprio il caso Abruzzo, il caso di una regione che ha intercettato nel settembre 2014-2020, e siamo già nel 2019, quindi manca solo un anno, ha intercettato solo il 15% delle somme disponibili ed è un vero peccato perché invece poi altre nazioni che noi assolutamente non reputiamo più intelligenti o più brave di noi, e parlo della Polonia, della Repubblica Ceca, della Lituania, della Croazia, tutte le nazioni del nord Europa, invece non rimandano indietro nemmeno un euro, ed è un peccato perché sono soldi che noi mettiamo in quella cassaforte ogni anno, quindi soldi delle nostre tasse che vanno a finire a Bruxelles e poi non tornano indietro. Ecco noi dobbiamo essere bravi in questo, e devo dire che i cittadini ci stanno venendo dietro, noi stiamo facendo un'opera proprio di informazione, stiamo utilizzando queste settimane per informare i cittadini e coinvolgerli, perché soltanto un cittadino più informato poi va a votare in maniera più consapevole. Da questo punto di vista devo dire che i cittadini ci stanno rispondendo in maniera che non ci aspettavamo, e anche le associazioni che abbiamo incontrato in queste settimane, in questi ultimi giorni, parlano dell'Associazione dei Commercianti, gli albergatori, la CNA, insomma un po' tutte, ci danno ragione, con dispiacere si registra questo dato. Ecco noi vogliamo appunto invertire questa tendenza, sappiamo che possiamo essere bravi, siamo pur sempre italiani e quindi dobbiamo mettere a disposizione la nostra capacità, la nostra cultura, la nostra bravura, perché noi siamo bravi, questo ci dobbiamo ricordare, siamo italiani e siamo sempre stati un'eccellenza nel mondo, dobbiamo tornare ad esserlo. Grazie, grazie Panichella. Enzo Fidanza, torno da lei, ha parlato di una lista con grande entusiasmo, formata da molti giovani, lei è un po' il capitano di questa squadra, con la sua esperienza e con la sua capacità. Che sindaco sarà se dovesse essere eletto? Intanto sarò un sindaco presente, ma credo che posso dire che insomma non ci sarà un sindaco che dici che non sarà presente. Sicuramente. Sarò un sindaco sicuramente presente, lo sarò con la consapevolezza di uno che conosce bene la città, la conosce da un punto di vista della sua storia, la conosce da un punto di vista delle sue problematicità, la conosce da un punto di vista della sua evoluzione, perché Montesilvano ha avuto negli ultimi 30 anni una evoluzione, ha raddoppiato la popolazione, quindi quello è l'elemento centrale delle problematiche che Montesilvano ha vissuto e continua a vivere. Ora è chiaro che una città che ha queste problematiche ha necessità di fare i conti sempre con il recente passato. Non può mai pensare che c'è stato un momento storico che si è consolidata come tale, non so, città storiche che hanno magari una stabilità nelle problematiche, una stabilità nella popolazione. Questa crescita ha naturalmente portato dei problemi. Ora questi problemi sono arrivati più o meno al capolinea e siamo arrivati ad una crescita che ormai si stabilizzerà su Montesilvano. Questa stabilità ci ha consentito oggi di scattare una fotografia che guarda il recente passato e diciamo che purtroppo il recente passato a noi non piace. Montesilvano negli ultimi 10 anni, negli ultimi 12 anni è stato amministrato dal centro-destra, a parte la piccola parentesi di Di Mattia. E ci sono state un sacco di problematiche che pur note alla città, pur note alla classe politica, non sono state affrontate. E' sotto gli occhi di tutti che queste problematiche sono ancora lì. Ora i miracoli non si chiedono a nessuno. Le priorità sì però, noi abbiamo delle priorità ben precise da affrontare. Quelle che sono le priorità più importanti le abbiamo elencato più volte e dentro alla nostra presenza nell'attività amministrativa daremo queste priorità. Le priorità hanno per noi una visione risolutiva delle questioni. Perché se noi pensiamo di andare a fare 5 anni di attività amministrative e in questi 5 anni di mettere in confusione tutte le problematiche che abbiamo di fronte, ne risolveremo pochissime. Io sarò un sindaco che farà una sorta di calendario di tutte le priorità e all'interno delle quali le priorità avranno risposte in funzione della loro tempistica. In modo tale che non facciamo che all'inizio proviamo a fare tutto e poi alla fine quando tireremo la linea ci accorgeremo che invece abbiamo fatto poco o abbiamo fatto niente. Questo a me non accadrà sicuramente. Una squadra che sarà formata da grandi tecnici, grande professionalità con qualche presenza politica. E questo noi lo possiamo fare. Non so se altri lo potranno fare e in che modo lo potranno fare. Noi lo faremo sicuramente. E dentro a queste figure naturalmente andremo alla ricerca di tutte le attività anche compreso quella che viene detta ma apparterrà anche a noi, la ricerca dei fondi. Anche noi abbiamo questa priorità che deriva anche dal mio taglio professionale che mi contraddistingue. Sicuramente. Ottavio De Martinis, come amministratore uscente, lei ha la doppia onere ed onore. Nel senso, venite giudicati per quello che avete fatto. Lei ha sottolineato gli aspetti positivi. Però insomma qualcuno potrebbe anche mettere in evidenza ciò che dovrebbe essere fatto e non è stato fatto. Allora, che sindaco sarà anche lei? Io vengo da 12 anni di esperienza, motivo per il quale mi ritengo oggi appunto portatore di quell'esperienza utile per governare una città importante e difficile come Montesilvano. Questa esperienza io penso che possa essere una dote importante per la città ma al di là di queste esperienze io porto in dote soprattutto un amore spassionato per la mia città che ho dimostrato in ogni dove, una presenza costante. E io da sindaco, perché poi i ruoli variano a seconda delle stagioni, da sindaco, da primo cittadino, dovrò infondere ogni energia, infonderò ogni energia volta a far sì che intanto il clima sia il più disteso possibile e che porti, come dicevo prima, parlando della campagna elettorale, al solo obiettivo che ci dobbiamo porre, ossia il bene della nostra città. Detto questo, da sindaco, usando un paragone sportivo che io amo spesso fare, cercherò come ogni bravo allenatore di sfruttare tutte le potenzialità e tutte le risorse umane che il Consiglio Comunale e l'Aggiunta mi regaleranno. Ogni singolo individuo ha delle capacità ben precise, sfruttandole al meglio si può raggiungere l'obiettivo migliore. Ovviamente questo obiettivo non sarà scevo da un coinvolgimento anche delle opposizioni e usando sempre un paragone sportivo, in realtà le partite più belle poi sono quelle dove ci sono tanti gol e dove c'è tanto spettacolo, se vogliamo, e questo vuol dire che la partita si può vincere anche e soprattutto grazie all'avversario e io anche con loro sarò molto molto leale e molto collaborativo perché ritengo che tutti insieme, al di là poi dei ruoli, si possa raggiungere veramente il bene della città. Detto questo, rimarcando quello che sottolineavi, sicuramente ci sono state tante cose buone fatte, tante cose da migliorare, sicuramente sarei folle a non ammetterlo, ma ritengo che appunto Ottavio De Martini, sindaco, ha già in mente e saprà superare tutte quelle che sono gli ostacoli che in questi anni ci sono stati. Ostacoli che spesso sono derivati anche da una mancanza di collaborazione da parte degli enti sovracomunali che fortunatamente in questa stagione sarebbero tutti, sono certo della mia parte, se non altro perché si è creata una filiera a livello regionale con un presidente di centrodestra e una regione di centrodestra. Tornando e chiudendo con i fondi europei, ci sono fondi diretti e fondi indiretti, i fondi indiretti sono proprio quelli che passano attraverso degli enti sovracomunali e in questo sono d'accordo con Raffaele quando dice che la regione Abruzzo probabilmente negli anni non ha colto tante possibilità, opportunità, mi auguro che lo si faccia tutti insieme. Grazie. Raffaele Panichella, lei non ha mai rivestito incarichi politici, amministrativi, quindi da un certo punto di vista potrebbe essere anche un valore aggiunto questo, perché magari è distaccato dalla politica. Lei che sindaco sarà? Che cosa può garantire ai Montesilonesi? Intanto registro che da proprio novello della politica, sto un po' dettando l'agenda dei nostri dibattiti pubblici, perché praticamente su tutti i temi che io ho lanciato, che il Movimento 5 Stelle ha lanciato, piano piano ci stanno venendo dietro anche loro. Ricordo proprio il nostro primo dibattito, io lanciai come tema prioritario quello della grande Pescara e piano piano è diventato un po' anche nella campagna elettorale di Pescara, è diventato un tema importantissimo. E ora vedo che con piacere, registro con piacere, che stiamo un po' tutti virando anche su questo tema dei fondi europei. Quindi questo tanto per dimostrare ai cittadini che è vero che siamo nuovi della politica, ma non siamo così sprovveduti come qualcuno ci vuole far passare. Anzi, forse appunto avendo avuto un osservatorio privilegiato dall'esterno, abbiamo quella lucidità che serve per analizzare le cose nel modo giusto. Quella scala di priorità che Fidanza vuole fare da sindaco, noi invece l'abbiamo già fatta. Abbiamo fatto una scala di priorità molto precisa nel nostro programma, perché abbiamo individuato una vera e propria strategia, quindi di interventi che si possono fare nel breve e medio periodo. Parliamo di interventi peraltro a costo zero o poco più. E poi altri, e poi c'è una scaletta precisa, che spero avremo la possibilità di approfondire. E poi ci sono invece altre situazioni, altri punti del nostro programma, che invece richiedono una pianificazione attenta, una pianificazione accurata, una ricerca delle risorse per poterli attuare questi nostri progetti. Però sappiamo anche lì come incominciare a lavorare. Quindi io da sindaco mi metterò immediatamente all'opera, soprattutto per intanto indirizzare quelle iniziative che possono partire subito. E poi subito affrontare questo grande tema della ricerca delle risorse. Devo dire peraltro che da Montesilvanese acquisito, perché vivo in Abruzzo dal 2012, mi sento un po' come quella persona che entra in casa, in casa nostra, e nota delle cose che non vanno, che invece a noi passano inosservate, perché ormai le vediamo sempre, fanno parte del nostro quotidiano, e quando ci svegliamo la mattina, quel divano un po' rovinato non lo notiamo più. Quando ci arriva un ospite, invece entra in casa nostra, immediatamente vede se c'è disordine, o se c'è qualcosa di rovinato. Ecco, io quindi rivendico questa mia condizione di Montesilvanese acquisito, rivendico il non aver vissuto sempre a Montesilvano, come un valore aggiunto, e devo dire che questa cosa gli elettori l'hanno già apprezzata, perché quando si è votato in regione qualche mese fa, addirittura è stato eletto un presidente che non si è potuto votare nemmeno lui, perché risiede a Roma, e in Basilicata è successa la stessa cosa, perché il presidente eletto nella regione Basilicata, addirittura risiede a Napoli. Quindi i cittadini forse stanno cominciando a capire che è ora di liberarsi delle solite persone che affollano questi palazzi e sono sempre un po' alla ricerca dei posti di potere e far entrare un po' di area nuova. Ecco, noi del momento 5 Stelle siamo quell'area nuova che vuole ventilare le stanze del comune. Grazie Panichella. Fidanza, Panichella accennava la grande pescara, è stato un dibattito che è entrato prepotentemente anche nella discussione politica. Potrebbero essere quelle del 26 maggio, le ultime elezioni per Montesilvano, visto che poi si potrebbe passare alla grande pescara, oppure lei ritiene di no? Io ritengo di sì per una ragione molto semplice, perché il calendario delle fusioni con la legge regionale è già stato scandito. Ora però dire che il tema della grande pescara è figlio di una forza politica e che quindi noi stiamo appresso alle tematiche che questa forza politica ci richiama è un errore grave che insomma io non accetto, perché il tema della grande pescara è figlio del referendum. Sicuramente. E quindi quello non c'entrano niente le forze politiche. Le forze politiche possono soltanto dire se lavoreranno affinché questa grande pescara sia la più efficace ed efficiente possibile e se sono favorevoli. E infatti ci sono posizioni diverse, anche fra noi e fra le forze politiche, tra l'altro dello stesso schieramento tra una città e l'altra, quindi questo è il tema e non chi ha portato il tema, perché il tema l'ha portato un referendum che i cittadini hanno votato. Qual è l'interesse che i cittadini devono avere su questo problema da affrontare, io dico da un punto di vista da costituzionalisti? Perché? Perché il momento della fusione non è un momento che possiamo immaginare come una fusione a freddo. Il momento della fusione è un momento delicatissimo. Si dovranno scrivere le regole tra i tre comuni e le regole non saranno scritte se i consigli comunali saranno distratti, se i sindaci saranno distratti. Dovranno lavorare come una delle priorità assolute. E quando parliamo di priorità, io quando parlo qui e dico che ci sono delle priorità nel mio programma, io le priorità non è che le ho scandite durante i 20 giorni della campagna elettorale, io le ho scandite chiare nella mia mente anche prima, senza stare ad ascoltare le priorità degli altri. Qui ognuno di noi ha idee precise su ogni cosa, io sono sicuro di averle, gli altri non lo so, io posso parlare per me. Quindi io le priorità ce le ho chiare. Sulla questione della Grande Pescara, la mia priorità assoluta è che va fatta e va fatta con grande attenzione e grande determinazione. Io sono preoccupato per quelli che dicono che non va fatta, perché io resto e sono un cittadino montesilvanese che conosce bene la mia città, che ha cercato di amministrarlo quando è stato chiamato pochissime volte, ad amministrarla, ha cercato di amministrarla bene e questo lo farà anche successivamente. La questione Grande Pescara è una questione che diventa una grande opportunità da un punto di vista delle popolazioni, diventa una grande opportunità per gli imprenditori, diventa una grande opportunità per i commercianti, diventa una grande opportunità anche nella gestione dei servizi, perché molti di questi servizi sicuramente saranno gestiti in maniera diversa e poi per Montesilvano diventerà una grande opportunità per il turismo, perché la promozione di questo turismo montesilvanese che è una nostra caratteristica sarà più forte se verrà da un'area metropolitana. Ottavio De Martinis, per Enzo Fidanza dunque le idee sono chiare, la Grande Pescara rappresenta una grande opportunità, voi non siete lo stesso avviso, mi sembra di ricordare. Anch'io ho le idee molto chiare sull'argomento, nella misura in cui ho più volte ribadito la contrarietà a questo percorso che sicuramente è frutto di un referendum, ma io ribadisco e sottolineo ancora una volta quando è frutto di un referendum inquinato, inquinato perché portato all'attenzione dei cittadini in una tornata elettorale dove si votava con quattro schede senza la benché minima informazione relativamente a quello che si andasse a votare e si andasse soprattutto a scatenare, scatenare un processo che vedrebbe la nostra città scomparire di fatto. Anch'io sono un cittadino montesilvanese e probabilmente quello che dico a fidanza è che probabilmente fra cinque anni se dovesse partire questo processo diventeremo tutti i cittadini pescaresi. Io questo non lo reputo uno strumento o meglio lo strumento volto a cogliere opportunità. Le opportunità alle quali io sono assolutamente favorevole si potrebbero cogliere pur mantenendo le identità cittadine. È quello che ribadisco da giorni. Non serve, siccome c'è una brutta politica, non serve cancellare, o meglio non è questo il modo di cancellare la brutta politica, la brutta politica si cancella sostituendolo con una buona politica. La buona politica è quella che fa sedere attorno a un tavolo i sindaci, i tre sindaci, i quattro sindaci, i cinque sindaci del territorio e insieme si ragioni sulle migliori opportunità per far sì che il nostro territorio giovi nei vari settori come fatto ad esempio negli ultimi tempi proprio in tema di intercettazione dei fondi europei costituendo l'ufficio Europa che guarda caso è stato costituito proprio dai comuni di Spoltore, Montesilvano e Pescara oppure partecipando e allargando anche agli altri ambiti a un bando che in questi giorni è balzato all'onore della cronaca in maniera distorta, un bando al quale abbiamo partecipato e che potrebbe far arrivare sul territorio 570 mila euro e vedrebbe la nostra Stella Maris protagonista di un progetto molto interessante per la cultura, per le mestiere e per i giovani. Avremo modo di parlarne sulla Stella Maris in maniera più approfondita perché ci sono state tante proposte e poi è necessario fare chiarezza anche su questa scelta. Sì, volevo concludere dicendo che in realtà sia su questo ovviamente il tema non sono i 5 Stelle da dettare le linee e i programmi nella misura in cui probabilmente, panichella e in questo lo perdono perché probabilmente new entry a livello politico, probabilmente se si ragionasse sul loro programma, si potrebbe evidenziare quanto tanti aspetti del programma poi sono sia condivisi ma sono soprattutto continuativi di quello che è stato fatto in questi 5 anni. Parlo di un esempio tra tanti dell'introduzione della differenziata porta a porta che il Comune di Monzilvano ha introdotto grazie alla nostra amministrazione, ma ce ne sarebbero tanti altri. Avrò modo di parlare. Panichella, dunque ho ottenuto anche il perdono di Ottavio De Martinis. Sono commosto. Sulla Grande Pescara invece come Movimento 5 Stelle? Sulla Grande Pescara? Sì, voglio dire, veramente proprio da cittadino più che da ora da futuro candidato sindaco, mi diverte insomma ascoltare alcune riflessioni perché Fidanza dimentica che lui ha messo la maglietta di un partito che è quello del PD che ha amministrato Pescara negli ultimi 5 anni. Ecco, la giunta di Pescara si è praticamente dimenticata di questo referendum di 5 anni fa. Quindi forse Fidanza in questi 5 anni una telefonata Alessandrini gliela poteva anche fare per ricordargli quanto fosse importante rispettare la volontà dei cittadini. Perché i cittadini in quell'occasione sono andati a votare, hanno espresso un giudizio netto perché 7 su 10 significa che è proprio un cappotto, cioè volendo ragionare in termini sportivi. E ora venire invece in campagna elettorale a risbandierare questo tema della grande Pescara io lo trovo davvero ipocrita. Perché le forze politiche quando sono forze di governo devono fare la volontà dei cittadini e quando ci si mette la maglietta di un partito, di un movimento come ho messo io quella del Movimento 5 Stelle, si va a ereditare anche tutto quello che rappresenta quel partito o quel movimento. Altrimenti si fa una lista civica e si presenta con una lista civica. Rispetto al tema della grande Pescara io ho già evidenziato quanto sia stato sbagliato non darne seguito. E ora però perché si sono persi opportunità, progettualità, finanziamenti? Non lo dico io, lo ha detto il rettore dell'università, lo dicono le associazioni più importanti che operano sul territorio. Quindi probabilmente qualcosa di vero c'è. E questa cosa la percepiscono anche cittadini perché poi ovviamente non hanno visto un miglioramento della qualità della vita nella loro città. E rispetto a questo referendum inquinato io francamente sono veramente un po' stanco di sentirla questa cosa perché quando i cittadini votano qualcosa che non piace a qualcuno allora si dice che il voto è inquinato, che non è stato compreso bene, non hanno capito bene. Poi quando votano qualcosa che piace quei cittadini sono stati bravissimi, illuminati, hanno saputo scegliere il modo giusto. Perché se quel voto è stato inquinato allora è stato inquinato anche il risultato degli altri tre, delle altre tre schede. Quindi anche forse questo consiglio comunale passato in qualche modo è stato inquinato dal fatto che i cittadini avevano quattro schede e in quelle quattro hanno fatto un po' di confusione e non hanno votato nel modo giusto. Ecco invece dico che la volontà dei cittadini va rispettata perché i cittadini non sono così stupidi come noi immaginiamo e vanno a votare molti in maniera informata e i partiti e i movimenti hanno l'obbligo di informarli. Come noi facciamo ad esempio oggi il Moveriggio per i fondi europei, cinque anni fa noi abbiamo fatto decine di riunioni in cui abbiamo invitato i cittadini per rappresentargli i pro e i contro della grande pescara. Quindi i partiti cinque anni fa avevano l'obbligo morale, oltre che costituire i comitati per farsi pubblicità, avevano l'obbligo di fare in quei comitati dei dibattiti, di informare i cittadini, di fargli vedere cosa c'era di giusto in quel passaggio e cosa c'era di sbagliato. Non l'hanno fatto perché non gliene fregava fondamentalmente. Era un tema che proprio assolutamente non era nell'agenda. Adesso è tornato e noi siamo contenti che sia tornato perché noi sul referendum ci crediamo e vogliamo che i cittadini tornino al centro del dibattito politico dicendolo a loro. Grazie, grazie Panichella. Allora abbiamo avuto modo di ascoltare tre candidati sindaco di Montesilvano, Enzo Fidanza, Ottavio De Martini, Serra Raffaele Panichella in questo primo giro di consultazioni. Ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, torneremo subito dopo nuovamente qui in studio per proseguire il dibattito. A tra poco vi aspetto. Bene, eccoci tornati nuovamente in studio per questo speciale lezioni che Rete 8 dedica questa sera al comune di Montesilvano. Abbiamo già avuto modo di ascoltare i candidati sindaco del comune di Montesilvano. Dicevo, Enzo Fidanza del centro-sinistra, Ottavio De Martini, esponente del centro-destra e Raffaele Panichella del Movimento 5 Stelle. Prima della pausa pubblicitaria Panichella del Movimento 5 Stelle ha sottolineato come Enzo Fidanza, parlando proprio della grande Pescara, avesse dovuto confrontarsi con il primo cittadino di Pescara, Marco Alessandrini, per una posizione unitaria. Allora Fidanza, è doverosa una replica? Le do la parola. Una posizione unitaria. Noi non siamo mai stati in contrapposizione. Cioè noi abbiamo vissuto il referendum, non come dice il candidato del centro-destra, inquinato. Per noi non è stato affatto inquinato. Potremmo anche dire a questo punto allora sottoscriviamo un accordo che se non ci dovesse piacere il risultato del 26 di maggio lo possiamo considerare come un risultato che potrebbe essere inquinato. Cioè l'elezione non è mai inquinata. È quella. Il popolo è sovrano. Allora, il referendum ha dato un risultato. Io non avevo bisogno di confrontarmi con Alessandrini per dire cosa ne facciamo di questo referendum. Per me non c'è mai stata questa necessità. Quindi io sono sempre stato convinto, sono stato convinto sostenitore del sì e sono stato convinto sostenitore delle conseguenze del sì. E continuo ad essere convinto sostenitore. Mi dispiace che però a questo argomento si abbinino ancora le casacche. Allora io dico che almeno a livello amministrativo io dico ai cittadini montesilvanese smettetela di guardare le casacche cari amici. Guardate le persone. Perché almeno a livello amministrativo si votano le persone. E quindi il voto va dato. E non è un appello al voto ma una considerazione. Io non è che perché vi vesto una casacca posso essere migliore o peggiore di un altro. Io sono io. Ognuno di noi ha delle caratteristiche. Quindi le persone vanno giudicate per come sono. E quindi ritengo che nelle casacche poi può accadere nei casacche e nei movimenti che ci sono persone magari che hanno delle caratteristiche positive e ci possono capitare da tutte le parti persone che poi hanno caratteristiche negative. Quindi giudichiamo non le casacche ma giudichiamo le persone e le loro capacità. La loro storia e le loro capacità. Questa è la replica. Se c'è la domanda vado avanti. Sì. Volevamo parlare adesso per quanto riguarda la Sella Maris. Si erano date delle indicazioni. Ultimamente è uscito anche un progetto che ne vorrebbe fare un parco acquatico. È una struttura molto importante identitaria della città. Che cosa si deve fare per rimetterla in movimento? Allora io su questa questione intanto ho grande rispetto per il professionista che ha presentato sulla stampa come professionista e come persona. Non ho rispetto del suo progetto perché credo che sia un progetto che non si adatta a quel luogo e a quella struttura perché quella è una struttura di una grande valenza identitaria. Io l'ho sempre detto anche quando ero in provincia perché quello è un bene ancora di proprietà della provincia lo era allora e continua ad esserlo adesso. E per evitare che quel bene allora, allora con maniera lungimiranza, con molta lungimiranza, io per evitare che continuava ad essere di proprietà della provincia e io dissi che doveva fare un percorso. Doveva entrare nella Palacongressi che era una società che doveva accogliere nel suo seno sia il Palacongressi come struttura immobiliare e sia la Stella Maris. Queste due grandi strutture diventavano patrimonio immobiliare di questa società partecipata al 50% comune e 50% provincia che esisteva già perché è esistita. Poi l'hanno sciolta, io ho cercato di evitarlo ribadendo che quella era la strada da seguire perché all'interno del meccanismo non solo identitario ma della economicità delle questioni perché se noi ogni progetto che presentiamo ci limitiamo a dire che abbiamo una necessità, una opportunità, abbiamo i finanziamenti per realizzare una grande opera e non ci occupiamo anche che è la cosa più importante, della sua gestione. Noi rischiamo di continuare a costruire cose che poi non siamo in grado economicamente di sostenere, invece un saggio amministratore di queste cose si deve occupare e Stella Maris ha una grande valenza, Palacongressi hanno tutte e due una grande valenza. La loro sinergia, la loro economicità consentirebbe da una parte e dall'altra, di fare i cosiddetti travasi, esistono anche tra le società, cioè chi produce utili magari sostiene chi non ne produce ma fa una cosa più interessante da un punto di vista sociale, da un punto di vista dell'economicità. Ora, Stella Maris è una struttura che per me è uno degli elementi identitari più importanti della città, gli appartiene storicamente, gli appartiene come ricordi e gli può appartenere anche nella visione futura, perché quello che si può fare lì è importantissimo e sarebbe bellissimo e sarebbe riconosciuto da chiunque verrebbe a Montesilvano, oltre che dai montesilvanesi che sarebbero naturalmente i primi fruitori. Quello può diventare un museo di tutta la nostra storia del territorio a supporto di chi? Di tutti quelli che vengono nella struttura alberghiera e quelli ci vengono sia nel periodo estivo, quindi turismo estivo, sia nel periodo invernale e turismo congressuale. È una sinergia che adesso non c'è e che io ritengo debba esserci, debba esserci e se ci sono idee diverse uno le deve dire con chiarezza nei dibattiti, nei momenti di incontro con le associazioni, con le categorie con cui lo abbiamo fatto. Grazie. Ottavio De Martinis, lei aveva la necessità di chiarire un po' quello che è stata la vostra proposta, questo progetto che ha ottenuto questi finanziamenti europei. Si parla di sociali, si parla di vissinarlo a sociali. Colgo il passione anche per chiarire questo. Mi si consenta qualche secondo come è fatto con Finanza, più che altro per riprendere il tema della Grande Pescara, ma soprattutto per sottolineare quanto io nel mio intervento e nei miei interventi di qualsiasi genere non darò, non ho mai dato e non darò mai dello stupido all'elettore, a nessun tipo di elettore. Perché ritengo che ognuno abbia delle intelligenze, delle motivazioni tali da poter scegliere in autonomia relativamente a qualsiasi tema e in merito a qualsiasi preferenza. Quello che ho detto e sottolineato, e lo ribadirò all'infinito, è che quel referendum è stato inquinato, ribadisco inquinato, perché in contemporanea con altre tre votazioni. È un dato di fatto, e se mi si consenta, che quando ci sono delle elezioni, l'elettorato è sempre più attento alle dinamiche, soprattutto locali, cittadine e politiche, molto meno, purtroppo dico, anche a referendum importanti come questo. Quello che rimarco è che in quanto tale importante referendum che farebbe di fatto scomparire due città su tre, io ritengo che questo referendum, nell'idea di chi lo ha pensato, probabilmente doveva essere rivolto ai cittadini, o proposto ai cittadini, con la maggior informazione possibile. Quello che ribadisco è che i cittadini probabilmente non erano informati, e se lo erano, erano informati all'epoca, e in questo posso dare tutto il merito ai 5 Stelle, se lo prendessero, in merito, sono stati informati soltanto annunciando enormi tagli della spesa politica, di costi della politica che non ci sarebbero, perché non sarebbero enormi, se ci sarà modo, numericamente insomma, e proprio a livello economico potrei dare tutti i dettagli relativamente a quello che dico, ma soprattutto l'informazione era quella di fondi a pioggia che arriverebbero sul nostro territorio, neppure questi arriverebbero. Opportunità? Probabilmente sì, ma sono le stesse opportunità che si potrebbero raggiungere e cogliere mantenendo l'identità e lavorando insieme. Stella Maris, cercherò di essere il più veloce possibile, Stella Maris per me personalmente e anche da un punto di vista sentimentale rappresenta tanto, al di là della candidatura a sindaco. Io che sono cresciuto nel quartiere di Villa Verrocchio l'ho vissuta quando la Stella Maris era sede di una colonia, era viva, c'erano le suore che portavano i bambini all'interno della pineta, quindi per me rappresenta veramente tanto. Il motivo per il quale non ho nei dibattiti e in questo periodo ho voluto rimarcare alcuni aspetti, non tanto quello del bando di cui parlerò, è proprio perché, come diceva bene ieri Panichello, non mi ricordo, finanzi in un altro confronto, ho detto da sempre che quella struttura, che è importantissima, potrebbe essere definita come la struttura della propaganda, dove durante la campagna elettorale negli anni tutti hanno detto, ma nessuno poi ha fatto. Noi abbiamo in questi cinque anni proposto una succursata dell'Accademia delle Belle Arti, purtroppo quel progetto che aveva le gambe per camminare era un buon progetto, è stato cestinato da parte di qualcuno che poi in realtà l'aveva anche sottoscritto e ritengo che sia, debba sicuramente riprendere vita e vengo al bando a cui abbiamo partecipato per dare notizie utili. In 20 secondi però. In 20 secondi allora il Comune ha intanto chiesto alla Regione, che ha emanato un bando che si magora Abruzzo, di posticipare l'emanazione di questo bando proprio perché in campagna elettorale. Non avendo la Regione fatto questo e avendo emanato il bando, la cosa che ha fatto il Comune di Montesilvano, ma non da solo, con gli altri ambiti pure della provincia pescarese, è partecipare a un bando che potrebbe far arrivare sul territorio 570 mila euro da destinare nell'area, nell'ala posteriore della Stella Maris, che diventerebbe una sorta di piazza dei mestieri di Torino dove i ragazzi, in particolar modo e alcune categorie svantaggiate, possano imparare mestieri, dove si insegna mestiere e dove si faccia cultura. Quindi è un'opportunità per il territorio che per motivi di tempistica abbiamo assolutamente voluto cogliere. Grazie. Raffaele Panichella, lei è un architetto, quindi ha una sensibilità anche su quelle che sono le strutture architettoniche. La Stella Maris è un monumento, come hanno ribadito fidanzato. Assolutamente, devo dire che è l'unico edificio che può stimolare la fantasia di noi architetti qui su Montesilvano, perché è un edificio che ha un valore storico incommensurabile, un edificio che richiama fortemente peraltro la passione del duce per l'aviazione, perché voglio ricordare appunto lo stesso figlio primogenito di Benito Mussolini Morino, un incidente aereo, proprio mentre collaudava un aereo militare. E quell'edificio a forma di aeroplano potrebbe rappresentare, e lo rappresenterà senz'altro se noi avremo modo di governare questa città, rappresenterà un anello di congiunzione anche con D'Annunzio, perché il periodo storico è quello. Io voglio ricordare che Gabriele D'Annunzio è stato forse più celebrato all'estero che qui in Italia da noi, cioè in Francia ci sono dei musei dedicati a lui, qui siamo nella sua terra, c'è poco o poco più di niente. E quell'edificio potrebbe diventare veramente un monumento importante, una rappresentazione plastica contemporanea di un periodo storico, di un personaggio che comunque nel bene e nel male ci ha resi famosi nel mondo. Quindi sicuramente è un edificio molto interessante. E io voglio ricordare che a Pescara abbiamo una facoltà di architettura. Io ho proprio l'ultimo esame che feci, ho fatto l'università a Firenze, l'ultimo esame che feci fu il progetto del piccolo teatro a Milano che all'epoca era diretto da Giorgio Albertazzi, mi sembra una roba del genere, ma sono passati 25 anni, quindi sto scavando nell'album dei ricordi. Avendola una facoltà di architettura, ma voglio dire, vogliamo coinvolgere questi studenti, i docenti in un progetto, lanciare un concorso di idee? Cioè fondamentalmente l'università è comunque un laboratorio in cui si possono sviluppare e lanciare idee nuove che poi a caduta possono davvero coinvolgere tutta la città e tutti i cittadini. Quindi io da sindaco sicuramente la prima cosa che farò è una telefonata al rettore per stimolare un concorso di idee sulla Stella Maris, perché sicuramente ne verrà fuori qualcosa di buono, individuando ovviamente la destinazione d'uso che noi vogliamo fare. Ecco poi rispetto alle casacche mi vado a riprendere quel minuto circa che mi hanno in maniera elegante un po' rubacchiato, ritornando per un istante al problema delle casacche. Perché fidanza diceva, no, qui non dobbiamo guardare le casacche. Ecco, ma se allora non dobbiamo guardare le casacche, come si spiega questa rincorsa a diventare leghisti dell'ultima ora? Allora, se le casacche non fossero importanti, in questa città non avrebbe vissuto quello che io posso, devo dire, è stato forse l'aspetto più brutto di questa campagna elettorale e che i cittadini hanno visto e che sono convinto, i cittadini se lo ricorderanno domenica. Perché praticamente non c'era assolutamente bisogno, allora a questo punto se fila il discorso di fidanza, di andare tutti quanti a indossare la casacca della Lega. Ma non mi riguarda. No, no, lo so, lo so, però pure qualcuno del PD è andato dall'altra parte. Ma non mi riguarda me, riguarda loro. Assolutamente. Quindi devo dire che noi siamo balzati agli onori della cronaca nazionale come Montesilvano, ma in negativo ovviamente, perché su tutti i giornali, ultimo l'Espresso, ma voglio ricordare Repubblica, Il Fatto Quotidiano, Il Resto del Carlino, Il Foglio di Giulia Ferra, tutti i giornali hanno messo un focus, una lente di ingrandimento su quello che è successo qui a Montesilvano, dove tutti sono diventati leghisti sui generis. Parliamo di una forza politica che non era rappresentata cinque anni fa e che ora, solo perché Salvini ha in qualche modo, pompato dal mainstream, è riuscito a conquistare un posto un pochino più importante nei sondaggi, ecco che tutti hanno voluto indossare quella casacca per cercare di attrarre il più elettorato possibile. Ecco, questa è veramente, devo dire, una vergogna che i cittadini in qualche modo faranno scontare a questa forza politica. Finanza. Beh, io spero che la fanno scontare veramente, perché io sono il destinatario in negativo di quei passaggi di casacca a cui faceva riferimento Panichella, cioè lui ne parlava come se io fossi responsabile. No, 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 no. Dicevo solo che i cambi di casacca sono importanti. Io sono colui che ha pagato più di tutti quei cambi di casacca, figli della non volontà di voler fare il rinnovamento. Allora, questo sia chiaro e spero che veramente i cittadini se lo ricordino. Perché è chiaro che noi quando facciamo delle azioni politiche ci dobbiamo aspettare dalle conseguenze. Però è inutile che continuiamo a parlare di questo. Torniamo ai fatti programmatici, perché mi appassiono, ma fino a un certo punto, parlare di questo. Sicuramente. Tante le proposte che il centro-sinistra ha messo in campo per fornire servizi più alla, come dire, alle attese della cittadinanza e per rendere questa città sempre più vivibile. Fidanza, ultimamente si ha la percezione che Montesilvano subisca un po' la vicinanza di Pescara. Deve ritornare ad essere protagonista. In che modo? Secondo le vostre proposte. Allora, secondo le nostre proposte, intanto facendo quello che gli compete direttamente. Io non voglio essere, insomma, ripetitivo. Il decoro urbano è una questione che appartiene, credo, come primo punto a tutte le città del mondo, non in Italia. Perché se uno va in una città da turista, la prima cosa che nota è quello che vede. E la prima cosa che si vede è il decoro urbano. Quindi quello è il primo obiettivo. Noi ce lo abbiamo, io credo che ce l'hanno pure gli altri, solo che il centro-destra ha avuto cinque anni per poterlo mettere in atto e non ci è riuscito. E questa è una colpa che io gli faccio e spero che i cittadini se lo ricordino. Rispetto invece alla veribilità complessiva, ci sono oltre a questo aspetto che è abbastanza ormai noto, rinoto, arcinoto, ci sono tante questioni che stanno dentro l'aspetto programmatico e che possono migliorare la vita da molti punti di vista. Allora, vogliamo parlare della Grande Pescara. La Grande Pescara, ne abbiamo già parlato, quali sono le conseguenze? Abbiamo detto il referendum sì, il referendum no, chi è favorevole, chi è il contrario. Quali sono le conseguenze positive? È evidente che un'area metropolitana più grande non può che portare vantaggi. Sotto mille punti di vista, è noi che facciamo l'elenco, legge del Rio, finanziamenti, scelte condivise, non so, Pescara e Montesipano. Sono due città lineari, hanno tre grandi linee, anzi io dico quattro perché c'è una anche verde, che è la Pineta, che anche quella abbraccia tutte e due le città, quindi Lungomare, Strada Parco e Nazionale, oltre che Pineta, che possono rappresentare senza soluzione di continuità la soluzione a diversi problemi. È la questione del traffico, quindi parcheggi di scambio a nord e a sud per fare in modo che la Strada Parco possa interpretare finalmente quel ruolo di trasporto sostenibile all'interno della città. Poi è chiaro che dentro ai servizi per i cittadini si possono ottenere delle economie, si possono ottenere dei vantaggi. Ora la vivibilità è anche però figlio di piccoli microprogetti. Noi ne abbiamo, per quanto riguarda Montesilvano, su ogni quartiere. Ce n'abbiamo anche uno per la zona dei grandi alberghi. Quindi quello più importante, che mi preme più di tutti, è quello che sta in testa al fiume, alla foce del fiume. Un progetto di riqualificazione del parco fluviale e che possa allocare dentro a questo progetto di riqualificazione un elemento identitario. Che sarebbe il secondo elemento identitario? Il mulino. Curiosamente devo dire che c'è, non lo conosco personalmente, un candidato del centrodestra che scrive in un suo tabellone, ridisegniamo Montesilvano e ci ha messo, io dico, sono contento che la pensi come me, però dico in questi cinque anni perché non te ne sei occupato prima? Otavio De Martini. Intanto ringrazio sia Fidanza che Panichella perché parlando della Lega ne sottolineano l'importanza e la grandezza in questo periodo. Nella misura in cui effettivamente Salvini ha dato un'impronta alla politica importante, è un grande leader e come tale attrae fortunatamente non soltanto consensi ma anche persone valide, aggiungo io, che vogliono intraprendere un progetto seguendo queste linee. In realtà poi si fa un gran parlare del passaggio sul carroccio ma nessuno sottolinea mai l'effetto Otavio De Martini. Probabilmente qualcuno, soprattutto qualcuno che è più avvezzo al mondo della politica, dimentica o in qualche modo tende a non rimarcare quanto in realtà non sia mai scontato unire un centrodestra come ho fatto io e questo per me è fonte di assoluta soddisfazione. Noi andremo compatti in tutte le componenti davanti agli elettori e questo non può che essere anche un vanto da parte mia e perché no? Con qualche figura che è vero negli anni addietro ha militato in un altro schieramento ma che apprezzando il sottoscritto, apprezzando il progetto che il sottoscritto vuole portare avanti è passato a sostenere la mia candidatura. Io a volte mi si dice come hai fatto a prendere questo piuttosto che quell'altro? Posso fare pure un esempio facendo nome e cognome Feliciano D'Ignazio che fino ad oggi è stato nel centro-sinistra. Io la risposta che do è sempre una domanda, cioè rispondo con una domanda. Come avete fatto voi a farvi scappare una persona che fece D'Ignazio? Io ritengo questo. Poi i cittadini sapranno quello che fare, come è stato detto prima. I cittadini non sono stupidi e ragioneranno domenica relativamente a quello che fare. Venendo ai programmi, è quello che vorremmo fare su Montesilvano. Intanto noi ripartiremo da quanto buono è stato fatto a Montesilvano perché ritengo che è stato fatto davvero tanto e chiunque dei tre vada a ricoprire la catella di sindaco potrà non soltanto che ringraziare questa amministrazione per le basi che questo ha gettato. Basi che si possono toccare con mano percorrendo la città e tastando per esempio quanto dopo 30 anni la riviera è dotata di sistemi di allagamento che nessuno aveva messo in atto. Come si può tastare ragionando sulla differenziata porta a porta che fino a cinque anni fa era addirittura scomparsa dal regolamento comunale ma tante cose sono state fatte. Si può passeggiare tranquillamente in via Riosto la sera dove in realtà non si poteva più entrare perché al di là di problemi igienico-sanitari e strutturali c'era una sede di attività illecite. Quindi queste sono solo poche delle tantissime cose fatte. Quello che dovrebbe essere fatto è ripartire da quanto fatto e rendere la nostra città sempre più viva come lo è stata in tanti anni negli anni 80 e 90 quando era meta di tanti turisti e soprattutto diceva bene il direttore è lontana o meglio sinergica con Pescara e non periferia di Pescara. Grazie De Martinis. Parichella concludiamo questo giro con lei per quanto riguarda la città di Montsilvano come renderla più vivibile e come soprattutto renderla più a misura d'uomo perché effettivamente ci sono pochi spazi dove veramente passeggiare incontrarsi di aggregazione cioè una città un po' più. Ma sì assolutamente questo è un grande tema. Ecco io devo dire però che dobbiamo partire da un presupposto importante. Quale? Cioè dobbiamo decidere e questo fa parte anche proprio nel quotidiano di ognuno di noi se vivere nell'abbastanza o vivere nell'abbondanza perché quando si vive nell'abbastanza quel poco che abbiamo ci accontenta e ci sembra anche una grande conquista. Invece se noi vogliamo adottare diciamo una filosofia un pochino diversa cioè quella di vivere nell'abbondanza e c'è nell'abbondanza in questo caso volendo declinare questo concetto sulla nostra città volendo vivere nell'abbondanza di servizi, nell'abbondanza di cose che vanno bene, di cose ben fatte dall'amministrazione, di una sana e trasparente amministrazione pubblica. Ecco dobbiamo cambiare proprio completamente paradigma. Cioè qui il tavolo va proprio rovesciato perché finora, e questo è quello che registro, si è vissuti con questo concetto. Cioè si fa un poco e quel poco sembra un successo. Cioè per esempio sulla differenziata, cioè Montesilvano certo non è ai primi posti della classifica d'Italia per la raccolta porta a porta. Ci sono stati dieci anni, in dieci anni altre città hanno volato e noi siamo rimasti raso terra. Cioè continuiamo a volare basso, low level. Ecco noi vogliamo volare alto. Su questo per esempio è un tema dell'ambiente su cui si gioca una partita importante. Perché possiamo rilanciare, possiamo spingere la differenziata porta a porta, possiamo innescare quel circolo virtuoso dei rifiuti, quell'economia circolare che è il grande tema delle città, delle smart city del terzo millennio. Cioè il rifiuto deve diventare una risorsa. Per farlo dobbiamo però sensibilizzare i cittadini, partire magari dalle scuole, dai bambini nelle scuole elementari, medie, superiori, dai cittadini stessi con una campagna di informazione più importante, più incisiva. Fargli capire quanto il rifiuto può diventare una risorsa. Faccio un esempio. Il PET, che è la sostanza in cui sono fatte le bottigliette d'acqua, viene pagato circa 700 euro a tonnellata. Quindi mettendo semplicemente delle macchine compattatrici all'interno del nostro comune, come noi vogliamo fare, abbiamo scritto nel programma, ecco si vanno a recuperare somme enormi in cinque anni di amministrazione. Ma questo è come con altro, anche ripotenziando il centro del riuso. Andiamo a recuperare materiali che altrimenti andrebbero in discarica e ci mettono centinaia di anni per decomporsi. Ecco, noi vogliamo cominciare a volare più in alto. Cari cittadini, non vi accontentate più di un'amministrazione che proclama per successi l'ordinario. Perché? A chiudere una strada e farci una passeggiata notturna per dare un po' di agio ai turisti. È davvero il minimo sindacale che un'amministrazione può fare. Realizzare qualche spazio o qualcosa, ma è quello che bisognava fare, ma proprio il 5% di quello che andava fatto. Noi vogliamo fare molto di più. E ci sono le idee, ci sono le persone giuste, persone competenti che possono andare a ricoprire ruoli cardine in questa amministrazione. State tranquilli che lo faremo. Grazie Panichella. Fin qui i tre candidati sindaco di Montesilvano. Ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria. Torneremo per l'ultima tornata di questo dibattito per conoscere ancora meglio i tre candidati. A tra poco, subito dopo la pubblicità. Vi aspetto. Bene, eccoci ritornati nuovamente in studio per questo speciale di Rete 8 dedicato all'elezione amministrativa al Comune di Montesilvano. Siamo in compagnia di Enzo Fidanza, Ottavio De Martinis e Raffaele Panichella, rispettivamente i candidati del centrosinistra, centrodestra e del Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni al Comune di Montesilvano. Lo ricordiamo, si voterà il 26 maggio prossimo. Saranno 99 i comuni interessati al voto. Quelli con più di 15 mila abitanti sono tre, ovvero Pescara, Montesilvano e Giulianova, dove eventualmente si potrà ricorrere al ballottaggio se dovesse essere necessario. Fidanza. Riprendiamo da lei il dibattito. Abbiamo parlato molto di quello che il centrosinistra ha incluso nel programma per rendere questa città più vivibile, più rispondente all'attesa dei cittadini. Ma come farlo? Come riorganizzare la macchina amministrativa? Lei ha avuto già precedenti esperienze. Il Comune andrebbe riorganizzato secondo lei? E poi, seconda domanda, che giunta vorrebbe permettere in campo tutto quello che avete messo nel vostro programma? La macchina pubblica va riorganizzata nella misura in cui bisognerà potenziare alcuni aspetti che, a mio avviso, debbano essere potenziati e che riguardano punti fondamentali del programma. C'è però da fare, purtroppo, i conti con il numero degli addetti ai lavori, che era la cosiddetta pianta organica, Montesilvano storicamente ha pagato un prezzo, a mio avviso, troppo alto, e qui il legislatore qualche volta si distrae, ha pagato un prezzo troppo alto rispetto al contenimento della spesa pubblica, ai pensionamenti, perché intanto che accadeva questo come regola, Montesilvano continuava a crescere come numero di abitanti. E quindi c'è uno squilibrio, cioè a parità di numero di abitanti. In altre città che storicamente erano già così grandi prima di questi contenimenti della spesa pubblica, il numero di dipendenti è qualche volta doppio, se non triplo. Addirittura. Sì, sì, è così, purtroppo. E questo è un elemento con cui chi si candida a fare l'amministratore deve essere consapevole e non deve dire bugie alla popolazione. Quella è una regola numerica che difficilmente potrà cambiare. Ma cosa possiamo fare noi? Fare in modo che alcune attività siano esternalizzate, fare in modo che quelle che esternalizziamo diventino un fiore all'occhiello, cioè il meccanismo dell'esternalizzazione, che può essere dalla capacità di attrarre fondi, dalla capacità di progettare, dalla capacità di gestire servizi, anche quelli sociali, per esempio Montesilvano con l'azienda speciale ha fatto un percorso ormai datato da tanti anni che funziona e che io dico debba essere ulteriormente potenziato e anzi messo in sinergia con il mondo del volontariato, che io credo sia ormai un mondo che si è affermato nel Paese Italia. Non so, non posso dare numeri su cosa accade negli altri Paesi, ma insomma il Paese Italia è la terza gamba da un punto di vista della sua organizzazione sociale. Quindi rispetto a queste questioni ci sono tante cose che si possono e si debbano riorganizzare tenendo conto di questi aspetti di cui ho appena parlato. Per quanto riguarda la Giunta, io avendo fatto questo percorso di cui abbiamo già parlato, cari cittadini, io questo percorso l'ho già fatto, non lo devo fare quando andrò a nominare la Giunta, io non avrò cambiali elettorali da pagare. Queste cambiali elettorali quando non ci sono rendono il Sindaco, quindi Enzo Fidanza libero di scegliere, il che significa che io potrò scegliermi le figure migliori che mi potranno dare una mano e quando danno una mano a me, la danno alla città e questo è evidente. Certo ci saranno anche alcune figure politiche che avranno in simbiosi con le figure tecniche il compito di portare a casa l'attuazione del programma con le calendarizzazioni di cui parlavo prima. Grazie Fidanza. De Martinis, abbiamo visto un personale sottodimensionato che deve fare grandi sforzi per garantire questi servizi. Lei come intende, la conosce perché è un amministratore attuale, la macchina amministrativa, come intende riorganizzarla e poi che giunta ha in mente se ne ha già? Intanto ringrazio ancora una volta Panichella perché ogni suo intervento mette in rilievo quanto di buono è stato fatto in questi cinque anni dall'amministrazione uscente. Parlava di centro di riuso e aggiungo io centro di raccolta, sono due importanti strumenti di cui oggi finalmente Montesilfano è dotata. Sono piccole cose, a me non risultano essere piccole cose, tutte quelle di cui parla perché cinque anni fa Montesilfano non aveva la differenziata porta a porta nel meno del regolamento, aveva una ditta, un'azienda che curava i rifiuti che dopo due anni grazie a una meticolosa azione abbiamo in qualche modo cessato di far lavorare sul nostro territorio, l'abbiamo sostituita e abbiamo introdotto il porta a porta, quindi se si parlasse solo di questo si ragionerebbe su quante cose in realtà e tante molto importanti sono state fatte in questi cinque anni. In merito alla macchina amministrativa, sposo in toto e sono in linea con quanto detto da fidanza che probabilmente conoscendola perché l'ha vissuta la macchina sa quanto sia difficile poi portare avanti le azioni quotidiane con un organico ridotto all'osso perché di questo stiamo parlando, il patto di stabilità ha ridotto il comune di Montesilfano ad un organico che probabilmente non basterebbe neppure in comune che con la metà degli abitanti. Quello che si può fare è organizzare al meglio la macchina amministrativa per il tramite di capacità di ogni dipendente magari indirizzate verso uno o verso l'altro settore e quindi organizzarla al meglio, questo è stato fatto in realtà anche in questi anni, si cercherà di continuare su questa lunghezza d'onda. Molto importante è l'operato delle associazioni del territorio, non soltanto quelle di volontariato che hanno supportato e dovranno supportare anche negli anni a seguire l'amministrazione, ritengo fondamentale e li ringrazio pubblicamente per quanto fatte e per quello che faranno. Ci auguriamo, c'è qualcosa in più rispetto agli anni passati, di poter implementare anche l'organico, non soltanto quello strettamente legato al Palazzo di Città ma anche quello della Polizia Locale che è assolutamente ridotto all'osso anche questo e per quello che riguarda la Giunta mi appare bizzarro quanto si definiscano i cittadini in maniera positiva quando devono votare per un qualcosa e quando poi debbono votare invece delle persone si reputano stupidi, probabilmente il contrario di quello che si diceva prima. In questo caso non essendo stupidi loro saranno in grado di scegliere al meglio quali dei 96 i miei candidati, 96, possano essere meritevoli di avere dei ruoli importanti. Ovviamente non sono cambiari elettorali e la politica, non sarò ingessato nella misura in cui se ci fosse qualcuno magari per determinati settori più competente di un altro non avrò problemi a ragionare su questo e non sarei neppure, non sarò neppure ingessato qualora ci fosse un'eccellenza dall'esterno che ci possa dare un valore in più per qualsiasi settore. È chiarissimo. Raffaele Paniglina, anche a lei la stessa domanda. Questo comune come se lo immagino, come pensate di organizzarlo per renderlo più rispondente a quelle che sono le vostre prospettive per far crescere la città. Sì, direttore Loa, ringrazio di questa domanda perché mi permette così di raccontare un po' ai cittadini un punto del nostro programma importante perché noi abbiamo sì preso in considerazione il patrimonio immobiliare del comune e quindi l'abbiamo messo sotto una lente di ingrandimento ma abbiamo anche preso in grosso esame il patrimonio di risorse umane del comune perché è vero che si parla di risorse ridotte all'osso e ne sono consapevole ma noi vogliamo attuare una serie di strategie che non sono mai state fatte in questo comune e qui ancora una volta con orgoglio rivendico la visione diversa che noi del Movimento 5 Stelle abbiamo, un'apertura proprio diversa perché vogliamo subito, e l'abbiamo scritto nel programma, realizzare un processo di lean manufacturing. Mi dispiace per questa parola in inglese ma non c'è l'equivalente in italiano. Fondamentalmente si tratta di migliorare i processi interni chiedendo direttamente agli impiegati perché io lavoro, lei l'ha ricordato all'inizio, da quasi 30 anni in un'amministrazione pubblica e mi occupo di processi anche piuttosto delicati utilizzando dei software complessi però mai nessuno mi è venuto a chiedere un consiglio su come quella determinata procedura poteva essere migliorata, proprio a me che ci lavoro. Ci calano queste scelte dall'alto, questi software, a volte proprio delle procedure codificate in un certo modo, però poi chi ci lavora ha difficoltà a metterle in pratica. Ecco questo lean manufacturing tende proprio a recuperare e a ottimizzare le risorse e i processi interni chiedendo direttamente agli impiegati. Questo è importante perché dobbiamo migliorare assolutamente la macchina amministrativa, dobbiamo ad esempio migliorare anche il sito internet perché il sito internet del comune è davvero da questo punto di vista deficitario, anche chi ci lavora ma soprattutto i cittadini non hanno la facoltà o la capacità di interpretarlo subito in maniera proprio chiara e semplice. Ecco poi nel minuto che mi manca voglio parlare un attimo dell'aggiunta. Ecco io da sindaco avrò veramente a cuore scegliere degli assessori e dare delle deleghe in base alle competenze e alle professionalità. Ci sono già persone che ci stanno dando una mano, che hanno collaborato anche alla stesura del programma, che sono perfettamente in linea con tutti i principi, con l'etica del Movimento 5 Stelle che è importante e quindi contiamo non soltanto sul loro aiuto ma anche su altre professionalità che recupereremo nel tempo necessario per la formazione dell'aggiunta. Vogliamo mettere persone competenti nei posti giusti. Con noi non capiterà di avere un infermiere con il camice e con il suscritto primario. Quindi vogliamo ad esempio che l'assessorato all'urbanistica sia dato ad un architetto, ad un urbanista, che l'assessorato al bilancio sia dato magari una persona competente come fidanza, che sappia guardare il bilancio e sappia capire anche in quale pieghe del bilancio possiamo andare a reperire qualche fondo. E via discorrendo. Quindi i settori importanti per noi, l'abbiamo già detto, sono il turismo, il commercio, l'organizzazione degli eventi, a cui probabilmente daremo la delega ad una sola persona perché si tratta di settori che assolutamente vanno presi nella loro interesse, cioè vanno valutati ragionando in maniera complessiva e non singolarmente. Grazie, grazie Panichella. Finanza, torniamo a lei per questo ultimo giro di interventi. Qualora dovesse essere eletto sindaco il 26 maggio prossimo, i cinque anni che l'attendono per amministrare la città saranno caratterizzati da che cosa? Quali, come dire, i progetti che lei vorrebbe portare immediatamente a conclusione per dire ho lavorato bene e alla città posso lasciare questi elementi? Ecco, il programma abbraccia un po' tutto, però per quali... Da dove si comincia in sostanza. Da dove si comincia, esatto. Beh, intanto devo dire che probabilmente non saranno cinque, caro direttore, perché se il percorso sulla grande pescara arriverà, inesorabilmente saranno soltanto tre. Esatto. Quindi dentro questi tre anni, perché tali saranno secondo me, bisognerà assolutamente occuparsi delle questioni che attengono alla possibilità di progettare, se c'è da progettare qualcosa, tenendo conto del fatto che però si arriverà ad una metropoli più grande, quindi con la condivisione delle cose, perché non è che uno può andare da una parte e l'altro poi andrà dall'altra. Quindi i primi tre anni attività amministrativa di, come dire, riordino di tutte le cose di cui abbiamo parlato. Non li ritocco tutti i temi perché diventano noto, non interessanti per i cittadini. Quindi gli anni saranno tre, secondo me, e la cosa che mi preoccupa di più è come scriveremo le regole dentro la fusione. Quello sarà uno dei temi che mi preoccupa, non da tecnico, perché io non sono un giurista, ma mi preoccupa perché se la classe politica che oggi si troverà ad amministrare questa città non terrà conto di quanto sarà importante e delicato questo passaggio, farà un errore che resterà negli annali. Sarà una pietra migliare. È un po' come i trattati europei. Ogni volta che una nazione, e parliamo della nostra, Italia, si accorge che magari in qualche tempo, dieci anni fa, sette anni fa, quindici anni fa, ha firmato un trattato e si è distratta, ha delegato a persone che hanno avuto non la giusta attenzione, non la giusta capacità. Oggi, quando dice dobbiamo modificare quel trattato, ci vuole un'unanimità. Basta uno che dice che no, e lì ci vuole un'unanimità, ma ci sarebbe pure la possibilità di farlo. Di qua sarà complicato, quindi grande attenzione. Quindi io mi occuperò delle questioni naturalmente di fronte alle priorità più semplici, quindi ricomincio dalla manutenzione, la cosa più importante, perché è quella che si vede subito. Poi sui grandi temi andremo in calendarizzazione un altro aspetto su cui mi vorrei dedicare da subito, sarà quello del turismo e di dare risposte precise a quel mondo. Quindi per tutto quanto quello che sta dentro, risposta alla cultura, il sociale, insomma è inutile che faccia l'elenco. E dentro al mancato elenco non c'è la distrazione per quanto mi riguarda. C'è soltanto la necessità di fare i conti con il tempo che sta scadendo e c'è poi la necessità di dire in fondo che la cosa più importante sarà sempre grande presenza, grande capacità e grande dedizione, perché l'attività amministrativa più passa il tempo e più diventa complessa. Sicuramente. Non è vero che l'attività amministrativa è una cosa che possono fare tutti, non è vero che si può fare con superficialità e con leggerezza. Non è affatto vero, cari cittadini. Ottavio De Martinis, qual è il suo punto di vista in merito a questi anni che l'attenderanno per amministrare Montesilvano? Nella misura in cui io ritengo che si debba lavorare per una Montesilvano grande piuttosto che per una grande Pescara, io doterò la città, da subito inizierò un percorso volto a dotare la città di strumenti fondamentali per questo, che siano la redazione di un nuovo piano regolatore, che però sia diverso da quello che lasceremo alle spalle, un piano regolatore senza che preveda non ulteriore consumo di suolo pubblico, ma riqualificazione dell'esistenza e soprattutto previsione e riqualificazione di un centro città che sia davvero un centro città, riqualificazione dei centri degli ingressi cittadini che oggi non rappresentano da questo punto di vista un bel biglietto d'ingresso e doterò la città di un PUT, di un piano del traffico di cui non è dotata, strumento importantissimo in materia di viabilità, ma anche di un PEBA che è il piano di eliminazione delle barriere architettoniche che renderà la vita delle persone affette da disabilità molto più agevole e che ci potrà dare in termini turistici anche molte possibilità caratterizzandoci anche come città turistica volta ad ospitare famiglie o nel cui nucleo familiare ci sono presenti dei portatori di handicap. Questo è l'inizio, o meglio, questo è il punto di partenza perché ritengo che bisogna dare alla città quello che è mancato, una visione davvero di una città e in quanto tale questi strumenti sono fondamentali. Oltre questo ovviamente si lavorerà su tanto altro, sempre comunque con un tema, un punto cardine che è quello del turismo e in qualsiasi settore noi lavoreremo affinché questo possa tornare ad essere l'unica ricetta, la ricetta che per tanti anni è stata una grandissima ricetta e l'unica ricetta oggi all'amaltia che purtroppo affligge non soltanto la nostra città ma tutto il paese Italia, ossia la sempre di meno ricchezza all'interno dei bilanci familiari e la scarsità di lavoro perché il lavoro è il tema che più di tutti interessa i cittadini. In questi giorni, io penso che non solo io, stiamo incontrando tanti cittadini, la maggior parte delle richieste ovviamente vanno nelle lezioni in cui non soltanto i ragazzi ma anche i padri di famiglia purtroppo sono senza lavoro e su questo dobbiamo lavorare e lavoreremo soprattutto dando alla nostra città facendola tornare quella che era una volta sede appunto di tanti turisti. È evidente che anche qui che il turismo non può prescindere da tutela dell'ambiente, si lavorerà per rendere intanto vivo il patrimonio che abbiamo, vedi ad esempio la Pineta che per tanti anni è stata una risorsa e purtroppo negli anni è stata relegata a un luogo invece diverso, a un luogo dove oggi c'è più un problema che una risorsa ma anche il nostro mare, il nostro fiume che vanno tutelati e verranno posti in essere tutte le iniziative volte adesso. Vi aggiungo e sottolineo finalmente con qualcuno mi auguro che consideri Montesilvano non soltanto a Terza, a Abruzzo, a chiacchiere ma ci dia una mano anche da... Grazie De Martinis. Raffaele Panichella, concludiamo con lei, ovviamente si parla di ipotesi ma qualora lei dovesse diventare il sindaco di Montesilvano, per quali motivi vorrebbe che fosse caratterizzata la sua attività amministrativa? Ma sicuramente da sindaco darò priorità ad una serie di cose che spero possano davvero impattare fortemente sulla qualità della vita della città. Ecco, una di queste l'abbiamo già proprio sottoscritta qualche giorno fa con i commercianti. È stata una piccola cosa ma per dare un segnale, uno switch rispetto a un modo diverso di fare politica. Ecco, abbiamo sottoscritto con l'Associazione dei Commercianti, Montesilvano nel cuore e con la Confesa Arcenti un accordo secondo cui in pratica i nostri consiglieri comunali si impegneranno a spendere sul territorio di Montesilvano i proventi derivanti dai gettoni di presenza. È una scelta nostra che abbiamo fatto e sarà molto facile farlo perché i consiglieri si faranno un conto corrente dedicato con una card, quindi ogni mese rendi conteranno e renderemo pubblico sul sito internet del Comune come sono state spese quelle somme e quindi nel territorio di Montesilvano. È un modo per restituire ai commercianti del denaro che comunque viene dato dal Comune di Montesilvano ai consiglieri. È una piccola cosa, i nostri parlamentari l'hanno fatto restituendo parte dello stipendio, abbiamo rinunciato ai rimborsi elettorali. Ecco noi adesso qui come consiglieri e come squadra di governo vogliamo fare questo. Tanto per capirci, se tutti ci venissero dietro su questa cosa in cinque anni probabilmente ai commercianti di Montesilvano saranno restituiti qualcosa come un milione o un milione e duecentomila euro. Quindi non parliamo di cifre trascurabili e devo dire che abbiamo colto nel segno perché adesso che andiamo incontrando i commercianti uno a uno lungo il nostro percorso di incontro con i cittadini, quando gli rappresentiamo questa cosa e sono contenti perché vedono finalmente una forza politica che guarda sul serio al territorio, che dimostra di amarlo questo territorio e questo davvero ci rende felice. Poi spero di essere ricordato anche per aver messo a regime tutto quanto di buono c'è nel reddito di cittadinanza perché questo provvedimento, che è un provvedimento davvero epocale, il primo grande provvedimento di lotta alla povertà che un governo italiano abbia mai fatto, consente a noi amministratori di avere una forza lavoro notevole a costo zero praticamente perché i beneficiari del reddito di cittadinanza hanno sottoscritto un patto che si chiama proprio patto di solidarietà. Quindi percepiscono la somma, però devono restituire otto ore a settimana del loro tempo per compiti di pubblica utilità. I comuni però devono fare i progetti, c'è scritto proprio nella legge, quindi da sindaco preparerò subito dei progetti nel campo del decoro urbano, dei servizi sociali da potenziare e potrò impiegare questa enorme forza lavoro perché basterà fare una telefonata al direttore dell'Inps e chiedere i nominativi dei residenti a Montesilvano che beneficiano del reddito di cittadinanza per averli subito a disposizione. Voglio dire, se sono solo mille persone, parliamo di 8 mila ore a settimana, che possono appunto queste persone dedicare per compiti semplici ma che restituiscono decoro alla città. Cioè mettere in mano un decespugliatore a queste persone e metterli a pulire i giardini, le aiuole e quant'altro, tenere pulite le strade è una cosa banalissima ma che dovranno fare? Perché se non lo fanno perdono la misura. Quindi questo per dire come a volte davvero con poco, semplicemente avendo delle idee, si può fare qualcosa. E in più devo dire, sempre a proposito del reddito di cittadinanza, che alcuni commercianti ci stanno venendo dietro, di Montesilvano e noi di questo sono veramente orgoglioso, perché stanno facendo degli sconti alle persone che vanno con la card a fare spese. Quindi si sta davvero innescando un circuito anche di solidarietà che è importantissimo, perché noi su questo puntiamo, vogliamo restituire centralità ai cittadini. Quindi quando i cittadini cominciano anche a fare rete tra di loro in queste iniziative belle, un sindaco non può che essere contento. E in più aggiungo che abbiamo messo nel programma un'iniziativa particolare per i ragazzi che soffrono della sindrome di Down. Io quando ho concertato questa cosa, prima di scriverla nel programma, con alcuni genitori di questi ragazzi, cioè quando gliel'ho proposta, mi hanno detto, caspite, è la prima volta che in vent'anni qualcuno ci dice delle cose chiare, concrete, che capiamo possono essere realizzate immediatamente per reinserire nel circuito del lavoro questi ragazzi. Grazie Panichella. Ad Andrea Di Fabio in regia chiedo un ultimo giro proprio di un minuto ad ogni candidato sindaco di Montesilvano per un appello finale. Andrea Di Fabio, sostieni in questa iniziativa e allora partirei proprio da Enzo Fidanza, un minuto proprio per un appello finale diretto agli elettori di Montesilvano. Perché votarla il 26 maggio? Io penso che votare Enzo Fidanza sia la cosa più semplice, perché io ho un programma chiaro, ho un programma che guarda le problematiche vere della città, ho un programma che tende a riportare al centro dell'attenzione le questioni che sono state tralasciate dalla precedente amministrazione. Ho la necessità però del vostro sostegno perché con il vostro sostegno metteremo in atto quello che abbiamo già avviato, attività programmatica, attività di rinnovamento da un punto di vista delle candidature e quindi delle liste, attività che non è stata però un salto nel buio e quindi io sono quello che da un punto di vista amministrativo risponde a queste caratteristiche. Una persona di esperienza che accompagna questa squadra tecnica e piena di giovani. Io credo che voi abbiate una grande opportunità perché conoscete bene Enzo Fidanza, sapete che percorso ha avuto e sapete bene che quando promette delle cose e si impegna per delle cose le porta a compimento. Svegliatevi Montesilvanesi, votate Enzo Fidanza. Ottavio De Martinis, un minuto anche per lei. Sì, intanto voglio rassicurare i commercianti montesilvanesi del fatto che anch'io senza sbandierare card spendo i miei soldi a Montesilvano da 49 anni, ma penso anche Fidanza, non soltanto in gestione di presenza ma gran parte del mio stipendio da Poliziotto. Detto questo ci tenevo a dirlo, perché votare il centrodestra e perché votare De Martinis. Votare il centrodestra perché in questi cinque anni ha dimostrato di saper governare e amministrare la città, ha regalato tanto alla città e da queste basi per dare continuità a quanto fatto si deve ripartire e non si può che ripartire dal centrodestra. Con Ottavio De Martinis, sindaco, nella misura in cui Ottavio De Martinis si è dimostrato sempre innamorato della sua Montesilvano e ha infuso ogni energia volta a regalare a Montesilvano quello che merita. Oggi ha l'esperienza giusta per governare la città e soprattutto tanta tanta passione e tanta tanta volontà e soprattutto tanta presenza sul territorio che non guasta perché i cittadini non devono essere soltanto amministrati ma insieme a loro si deve amministrare la città. Grazie a Ottavio De Martinis. Raffaele Panichello, un minuto anche per lei, l'ultimo appello. Sì, ma cari cittadini, sapete bene che il Movimento 5 Stelle ha uno tra i principi cardini importanti che è quello dei due mandati. Ecco, se questo principio fosse stato mutuato anche dalle altre forze politiche, io in tutti questi giorni non sarei stato qui con loro che però, peraltro, sono delle persone splendide, mi ci sto anche affezionando, ci stiamo vedendo più con loro che con le nostre compagne o mogli. Ecco, però questo limite dei due mandati è un argine, è un argine a un certo modo di fare politica ed è un argine anche a questo continuo andare da uno schieramento all'altro. Però, cari cittadini, se siete contenti, se siete contenti di come le cose sono andate, di come stanno andando, di come vivete la vostra città, di come la guardate, votateli pure. Vi dico, cioè, non vi fate problemi, non votate il Movimento 5 Stelle, votate loro. Ecco, se invece volete, se immaginate un cambiamento, immaginate che finalmente in quel palazzo possa entrare del vento nuovo e che possa proprio cambiare le regole, possa far diventare quel palazzo un palazzo di vetro trasparente, ecco, allora votate il Movimento 5 Stelle e votate senza indugio Raffaele Panichella e la sua lista, la sua unica lista. Grazie, io ringrazio ancora una volta Enzo Fidanza, candidato sindaco del centro-sinistra, Ottavio De Martinis, candidato sindaco del centro-destra e Raffaele Panichella del Movimento 5 Stelle. A voi tutti della cortesa, attenzione, arrivederci alle prossime edizioni. Grazie a tutti.